Per Natale, puoi rendere felice la mia mamma? Tu sei ancora giovane, puoi innamorarti di nuovo. Forse ho solo paura. Ciao, sono Casey. Ciao, ma sei sicuro di stare bene? Sta bene. Ha solo un livido, sta bene. Per il ciclo Magic Night, cosa serve per diventare un padre? Possono diventarlo tutti. Il miracolo di Natale di Negri. Domenica in prima serata, sulla 5.